Dal nostro punto di osservazione, che è il pronto soccorso pediatrico, possiamo confermare che c'è una tendenza al rialzo dei casi, soprattutto anche nella fascia d'età dei più piccoli, in particolare nella fascia 5-12 anni. Cresce anche ad Arezzo il numero di nuovi casi di Covid tra i più piccoli, presumibilmente anche in questo caso per il diffondersi della variante Omicron 2. L'incremento numerico di questi giorni, unito all'andamento dell'epidemia a livello nazionale, ci fa pensare che sia quello il virus. La variante Omicron 2 è infatti più contagiosa, ma con sintomi più lievi anche nei più piccini. Semplicemente non abbiamo casi più gravi, questa è la cosa più importante, tant'è vero che non abbiamo, a differenza delle settimane scorse, non abbiamo ricoverati Covid in questo periodo, quindi questo secondo me è un buon segnale. I sintomi sono molto simili a quella dell'ondata precedente, c'è un sintomo che è più caratteristico, che è quello della laringite, o meglio, che si presentano con una tossea tipo a foca, con un abbassamento di voce, tipo si chiama pseudocrupp, quindi questa è una manifestazione più tipica. L'appello dunque, ancora una volta, è alle vaccinazioni. Massima attenzione, vaccinazione anche nei bambini, quelli che non sono vaccinati andrebbero vaccinati anche in questo momento, quindi senza aspettare il settembre, l'ottobre, come fanno anche alcune famiglie che dicono tanto oramai abbiamo superato quest'ondata, li vaccineremo il prossimo autunno. Ecco, direi che invece la parola d'ordine è vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinare i bambini, vaccinare gli adulti, gli adolescenti, gli adulti che non sono vaccinati, mi raccomando, le terze dosi.